buongiorno a tutti sono qui alle collinette del campaccio quest'anno purtroppo il nostro caro campaccio non potrà vedere il suo svolgimento il tradizionale 6 di gennaio però la speranza è quella di riuscire a farlo comunque quest'anno nel 2021 ma sicuramente le cose miglioreranno e riusciremo a grazie agli amici della della san giorgese e a tutto il comitato organizzatore a poter realizzare un campaccio degno di questo nome i ricordi di questo campaccio risalgono a tanti anni fa quando quando da piccolo venivo con mio padre a vederlo e c'era l'egidio colombo che era a staccare i biglietti d'ingresso che diceva o no i fiori pagano dentro tutti e allora vedevamo correre i grandi campioni che hanno che hanno solcato questi questi campi e che hanno poi e che abbiamo poi visto nei mondiali nelle olimpiadi nomi nomi che sono che sono passati alla storia e anche quest'anno so che il parterre sarebbe stato veramente degno non mi tocca che che darvi appuntamento a marzo se se il covid ci darà un po di un po di rispiro e a marzo vedremo vedremo un bellissimo campaccio ciao a tutti buon 2021 e buona buon sport a tutti sperando che anche tutti gli sportivi ad ogni livello possano ricominciare a fare quello che più gli piace il proprio sport insieme ai ai propri compagni nella lealtà e nella nel giusto agonismo che fa fa dello sport una uno stupendo uno stupendo mezzo per formare le persone e i giovani buon anno e ciao a tutti grazie a tutti